Il territorio di Uggiano venne ceduto come feudo ecclesiastico alla Mensa Vescovile di Otranto, da qui il nome di Uggiano Ecclesia, ovvero Uggiano della Chiesa. Il centro storico del paese ha subito nel corso dei secoli importanti evoluzioni strutturali e molte delle opere edilizie qui presenti si attestano, salvo casi particolari, al XVII-XVIII secolo. Il borgo antico si raccoglie nella scenografica piazza dedicata a Umberto I, dove la mole della chiesa matrice domina gran parte del paesaggio architettonico. La piazza, per secoli, ha rappresentato il cuore delle interazioni sociali, economiche e culturali del paese, come testimoniano le antiche fogge e le sepulture riemerse durante i recenti lavori di riqualificazione urbana. All'ambito militaresco doveva risalire la Torre dell'Angelo, antico fortilizio modificato in una dimora nobile tra il Settecento e l'Ottocento. Sono caratteristici gli ampi affacci a balcone e il portale bugnato, nonché la preziosa colonna angolare risalente al 1713, che con le sue grazie e rotondità va a smorzare i toni solenni e austeri della struttura. Il tema della residenza fortificata ad Uggiano sembra essere ricorrente, anche in virtù dei pericoli provenienti dalla vicina costa e il pesante retaggio dei terribili episodi della conquista di Otranto da parte dei turchi nel 1480. Ne è valido esempio il palazzo di rimpetto alla chiesa matrice, che conserva ancora le tangibili testimonianze militaresche, come i beccatelli e il piombatoio. Per le strade del territorio gianese è possibile incontrare validi esempi di case accorte, tipologia architettonica tipica dell'edilizia popolare salentina. Alcuni di questi edifici conservano ancora oggi elementi di fortificazione, come beccatelli e piombatoi, un tempo posti a difesa delle strutture. Non è difficile trovare anche degli elementi decorativi, evidente eredità della tradizione artistica ma anche religiosa della società uggianese. Grazie. 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 Grazie.